Mentre imperversano le finali NBA tra Golden State Warriors e Boston Celtic iniziano finalmente le finali dell'occhi su ghiaccio americano, siamo arrivati in fondo, siamo arrivati alla finale per la Stanley Cup 2022, il momento più bello insieme a tutti i playoff dell'occhi su ghiaccio americano. Di conseguenza andiamo a riprendere il video che feci un mese fa dove presentavo di fatto tutti i playoff, tutto il tabellone che è partito il 3 di maggio e che si concluderà di fatto a metà giugno inoltrato con la finale tra Colorado Avalanche e Tampa Bay Lightning in una serie che sarà veramente spettacolare perché di fronte si affrontano la miglior squadra dell'Ovest ovvero Colorado contro una delle migliori squadre da tanti anni a questa parte per quanto riguarda i playoff NHL. I Tampa Bay Lightning sono i bicampioni uscenti e sono per la terza volta consecutiva alle finali della Stanley Cup. È una squadra che di fatto sta creando una dinastia che però di fronte ha una squadra che anche in questi playoff è sembrata nettamente la più forte. Mandiamo con ordine e partiamo evidentemente dal tabellone che vediamo qui. Parleremo in relativa alla velocità di tutti i primi turni per poi andare sempre più ad approfondire le varie cose chiave di questo turno di playoff fino ad arrivare evidentemente alla posizione delle squadre e alle partite chiave delle serie che hanno portato evidentemente Colorado e Tampa Bay alla finale a giocarsi la Stanley Cup. Per chi non conoscesse il gioco dell'Ok però facciamo una sorta di recap. Gli accoppiamenti vengono fatti in base alla regular season in base appunto ai piazzamenti delle varie squadre. Ci sono otto formazioni qualificate per ogni conference e ogni turno è al meglio delle sette. Banalmente chi riesce a vincere quattro partite al meglio evidentemente delle sette passa al turno successivo. Ogni partita si vince segnando un gol in più deviato esattamente come il calcio. La differenza che però c'è con il calcio nostro in generale è che nella fisica ci giocano in sei giocatori. Cipi di movimento è un portiere e poi via via fino ad arrivare al termine delle partite che sono di tre periodi per 20 minuti. In caso di parità al playoff si va ai supplementari e i supplementari saranno di fondamentale importanza soprattutto per i Colorado Avalanche che hanno avuto la meglio degli Edmonton Oilers. Ma andiamo con ordine e partiamo da quello che è stato un primo turno dei playoff assolutamente clamoroso dei playoff 2022 che hanno dimostrato evidentemente come gli attacchi siano evidentemente di un livello superiore rispetto agli altri anni. Erano dei playoff atipici perché sappiamo che nel corso del tempo nei playoff e nel ciel soprattutto si segna molto meno rispetto che in regular season e invece gli attacchi e gli special team in particolare hanno dato veramente spettacolo in tutto il primo turno. Un primo turno che già ha visto da una parte un Colorado che evidentemente ha dimostrato di essere già la squadra superiore e lo vedremo poi soprattutto nei turni con Nashville e soprattutto con gli Oilers dall'altra dei Tampa Bay Lightning che hanno veramente sudato la propria qualificazione alla finale con veramente vittorie in extremis in molti casi e poi in alcuni altri prove assolutamente di forza. Partendo proprio da Est e dai B campioni uscenti andiamo ad analizzare quello che è stato il turno evidentemente della formazione di John Cooper, una formazione di John Cooper che subito pronti via si trova i Toronto Maple Leafs in primo turno dei playoff, un accoppiamento clamoroso perché Toronto non vince un titolo dal 1966 e è una delle squadre più incredibili, più titolate evidentemente del gioco dei Loki, nonché una delle fondatrici delle NHL. Di conseguenza dobbiamo immaginare un ambiente di Toronto molto caldo che aspetta una vittoria da tanto tempo. I Toronto Maple Leafs avevano il match point evidentemente per chiuderla, evidentemente già al primo turno ma Tampa Bay in gara 6 e in gara 7 dà una prova di forza clamorosa in rivalta, un pronostico che era di 3 a 2 a sfavore e va a vincere 4 a 3 al primo turno. Affrontando nel secondo turno di playoff i Florida Panthers, Florida Panthers che avevano anche loro a loro volta un esame complicato, ovvero i Florida Panthers la miglior squadra evidentemente dei regular season doveva affrontare i Washington Capitals, Washington Capitals che evidentemente si sono qualificati come ottavi della Eastern Conference e ho visto anche in alcuni tratti una Washington superiore ai Washington Capitals. Alla fine però Florida vince 4 a 2 e appunto affronta i Tampa Bay Lightning che però hanno veramente bullizzato male i poveri Panthers, vittoria 4 a 0 senza se e senza ma. Di fronte ai Tampa Bay Lightning qualificati per la finale di conference abbiamo avuto un'altra squadra molto importante, ovvero i New York Rangers che anche loro hanno dovuto sfangarla di fatto al primo turno con i Pittsburgh Penguins. I miei amati i Pittsburgh Penguins purtroppo sono usciti al primo turno al meglio delle 7 partite, i Rangers vincono gara 7 sfruttando in realtà anche gli infortuni soprattutto di Sidney Crosby che comunque è il go-to guy ancora oggi dei Penguins e anche del portico di Laga. Tristan Jerry alla fine anche i Rangers come Tampa Bay ribalta il pronostico e vince per 4 a 3 eliminando i Penguins e affrontando una squadra molto ostica, ovvero i Carolina Hurricanes che già hanno avuto un primo turno complicatissimo contro i Boston Bruins andando a vincere 4 a 3. E 4 a 3 sarà anche il punteggio con il quale gli Hurricanes verranno eliminati dai New York Rangers, squadra veramente incredibile che soprattutto nel power play ha avuto il punto di forza per qualificarsi e i turni successivi. Per chi non conosce il gioco dell'hockey sappiamo che ci sono delle situazioni speciali evidentemente nel corso della partita, abbiamo parlato che si gioca in 6 giocatori di totale con 5 di movimento e 1 portiere, ma qualora venisse registrato un fallo per una squadra c'è l'espulsione temporanea per 2 minuti solitamente oppure anche di più qualora la penalità sia evidentemente grave. Nelle situazioni di inferiorità numerica appunto vengono a crearsi gli special team, ovvero la squadra che ha beneficiato del fallo avrà di fatto 5 uomini effettivi, la squadra che avrà subito appunto il fallo, meglio che l'avrà commesso, avrà appunto un giocatore in meno. Di conseguenza verrà fuori il power play della squadra attaccante e il penalty kill della squadra difendente. Nelle special team soprattutto nel power play i New York Rangers hanno avuto veramente un grande apporto ed è per questo anche che sono arrivati alla finale di conference contro i Tampa Bay Lightning, Tampa Bay Lightning che però avrà la meglio appunto sui New York Rangers per 4-2. Il pivotal game precisamente per questa serie è stato soprattutto gara 3, una gara 3 che andiamo ad analizzare che ha visto una grande rimonta dei Lightning che vincono per 2-1, questa era una serie di fondamentale importanza. Una serie di fondamentale importanza perché è evidente come sotto 2-0 nella serie e 2-0 anche nel secondo periodo era importantissimo per Tampa Bay trovare una reazione. La reazione è arrivata esattamente nel secondo periodo evidentemente con un power play goal da parte di Nikita Kucherov che poi dopo darà il via alla rimonta dei Rangers, una rimonta dei Lightning scusatemi che si concretizzerà con i gol di Steven Stampos che avrà veramente un contributo clamoroso il 91, il capitano avrà addirittura 7 punti prima di gara 7 in questi playoff qualcosa di clamoroso, i punti vengono dati ricordiamo dalla somma di gol e assist in una partita. Ma poi soprattutto arriva anche una volta il contributo di Andre Palat che di fatto a 40 secondi circa dalla fine riesce a segnare il sesto gol in questi playoff e dare il 3-2 definitivo nella vittoria con i Rangers, questa vittoria che è vero di mezzo allo svantaggio nella serie sarà fondamentale per i Lightning per arrivare in fondo e qualificarsi alla Stanley Cup. che ricordo partirà per me domani notte per voi che vedete questo video stanotte con peraltro repliche su Sky in italiano alle ore 14 di ogni giorno quindi sarà veramente un momento incredibile, non bello secondo me come le World Series del baseball che ricordo è il mio sport preferito ma questi playoff hanno regalato qualche cosa di clamoroso e di adrenalinico e la finale per la Stanley Cup è uno dei massi evidentemente degli sport del 6-1, ovviamente è appassionato. Questa gara, gara 3 appunto è pivotal game perché da qui in poi in qualche modo è evidente come l'inerzia della partita e della serie in ogni caso andrà evidentemente a vantaggio di Tampa Bay che per il momento poi andranno a pareggiare vincendo le due partite in casa ma poi espugneranno il Madison Square Garden in gara 5 e chiuderanno di fatto alla pratica. In gara 6 anche qui una vittoria molto tirata parliamo di un punteggio di 2-1 ancora una volta con Stephen Stemkos in stato di grazia doppietta per il canadese doppietta per il capitano peraltro un'azione molto particolare successa in questa partita nel terzo periodo. Tampa Bay in vantaggio 1-0 e subisce il gol del pareggio da parte di Frenkie Vatrano in powerplay dopo un ingaggio vinto e una sassata terrificante di Vatrano letteralmente 20 secondi dopo Stephen Stemkos anche qui con un tocco un po' fortunato perché c'è una respinta del portiere peraltro il grandioso Igor Shester che è uno dei portieri più favolosi e più forti da vedere nell'era moderna. Si lascia sfuggire il disco e di ginocchio in qualche modo in modo involontario comunque Stemkos la mette dentro e fa 2-1 punteggio che peraltro non si scriverà più e sarà ball game per usare un termine del baseball in questo caso alla Amaliarina Tampa Bay giocava in casa e vince 2-1 in una partita che è veramente stato il turning point evidentemente di questa serie. Serie che appunto adesso deve attendere fino appunto all'inizio della Stanley Cup che appunto sarà contro i Colorado Avanash. Colorado Avanash che ricordo ancora una volta sono stati la migliore squadra dell'Ovest e che hanno dimostrato veramente di avere un hockey offensivo veramente clamoroso con delle linee incredibili e sul pezzo perché abbiamo dei giocatori in particolare Nathan McKinnon, Nasen Kadri evidentemente anche Mikko Rantanen su tutti insomma che hanno del nome e del peso all'avanti. Poi Kadri sarà infortunato e quindi questo sarà un problema ma ne parleremo evidentemente nel pronostico. Il percorso però di Colorado Avanash è stato qualcosa di clamoroso perché primo turno vittoria 4-0 facilissima con Nashville che era peraltro una wild card in questo caso era già un pronostico abbastanza chiuso. Già nel secondo turno però il pronostico era un po' più complicato perché abbiamo il Central East Blues per il Colorado Avanash, il Central East Blues che hanno già vinto il titolo della Stanley Cup nel 2019 e hanno espugnato evidentemente il Minnesota Wild per 4-2 il Minnesota che peraltro così come Toronto non ha mai superato il primo turno in tempi recenti. Alla fine Colorado vince 4-2 soffrendo un po' le pene dell'inferno perché Colton Pareiko in particolare è stato un uomo ispirato per quanto riguarda i Central East Blues ma niente da fare, Colorado va in finale di conference dove ha trovato gli Edmonton Oilers del miglior giocatore del mondo di Conor McDavid però gli Oilers se la sono sudata perché come i Rangers al primo turno c'è una squadra evidentemente incredibile sul pezzo da affrontare ovvero i Los Angeles Kings che avevano il numero 3 del seeding dalla parte bassa del tabellone ma l'hanno fatto sudare molto a Conor McDavid e compagni perché i Kings mai domi evidentemente vanno a quasi fare un'impresa contro gli Oilers ma perdono solo 4-3 va ricordato però che i Kings non avevano Drew Doughty, uno dei giocatori migliori a disposizione fuori per infortunio ma alla fine McDavid riesce a salvarla in qualche modo e far passare gli Oilers al turno successivo Oilers che devono affrontare i rivali storici dell'Alberta, i Calgary Flames che anche loro l'hanno sudata tantissimo 4-3 contro i Dallas Stars abbiamo capito che già dal primo turno dei playoff NHL quest'anno c'era veramente tanto equilibrio i primi turni erano veramente delle wild card, dei jolly quindi poteva succedere veramente di tutto tranne magari per due o tre accoppiamenti ma abbiamo visto tantissime gare finite a gara 6 e addirittura a gara 7 vedi Carolina Boston, vedi New York Pittsburgh, vedi Calgary Dallas, la stessa Edmonton Los Angeles veramente tanta roba, mi aspettavo un pronostico molto più aperto evidentemente anche nella battaglia dell'Alberta ho visto gara 1, una gara clamorosa dove hanno segnato in totale 15 gol ha vinto Calgary 9-6 e ho detto attenzione che qua potrebbe scapparci il colpaccio con Calgary sul pezzo Edmonton che defensivamente non c'è e che aveva dei problemi di portieri infatti abbiamo visto come Mike Smith e come Mikko Koskinen si siano alternati in particolar modo alla fine poi da qui Edmonton non si ferma più però è alla volta di reagire vincendo quattro partite in stecca e andando a eliminare male i Calgary Flames dunque la battaglia dell'Alberta la vincono gli Oilers che però dovranno soccombere e non poco nella finale della Western Conference perché i Colorado Avanash come abbiamo visto dal tabellone vincono addirittura 4-0 qualcosa di incredibile per una squadra che è vero era forte ma anche Edmonton di certo non scherza e se era arrivata lì un motivo c'era al meglio giocatore del mondo ovvero Conor McDavid ma soltanto lui non basta evidentemente nel prossimo mercato invernale dovremmo vedere un'Alberta più rinforzata evidentemente dal punto di vista difensivo ma non c'è stata storia alla fine è 4-0 anche se non c'è stato comunque troppo da scherzare nella gara decisiva ovvero quella che ha consegnato la quarta vittoria consecutiva appunto ai Colorado Avanash e di conseguenza la vittoria della serie perché vince Colorado sia 5 ma vince al supplementare supplementari che ricordo a differenza della regular season dove si gioca in 3 contro 3 qui sono playoff con supplementari tradizionali quindi 5 contro 5 supplementari di 20 minuti la regular season sono soltanto 3 in ogni caso è un qualcosa di clamoroso vedere quante equilibri sia stato tra queste due formazioni che ripeto hanno regalato evidentemente dell'hockey molto offensivo e infatti si è visto perché nel primo tempo già i gol sono arrivati da parte di Kevin McCart difensore sontuoso ma ne parleremo nel terzo periodo alla fine ci sono tutti scatenati perché Colorado reagisce ai gol di Edmond che ci sono stati nel secondo periodo, il decimo di Hyman, il sesto di Newsy Coppins, il decimo di McDavid in power play il terzo periodo alla fine è favorevole a Colorado perché De Montaise, Lundskog, McKinnon, Rantani, i giocatori che ho citato prima evidentemente vanno in qualche modo a rimontare e a pareggiare la partita perché nel frattempo Hyman fa un altro gol e mette 5 gol sul tabellone per gli Edmond Donales che però vengono raggiunti e alla fine la perdono al supplementare con il gol il sesto in questi playoff di Arturi Lekkonen che appunto consegna la finale della Stanley Cup ai Colorado Avalanche che peraltro non ci arrivano da tempo in membre quando vinsero il titolo nel lontano 2002 è una formazione quella di Colorado veramente calamorosa da vedere dal punto di vista offensivo fanno un hockey spaventoso c'è un problema di portieri perché abbiamo visto come si è infortunato Darcy Kamper è entrato Francusi, il giocatore della Repubblica cieca ma che comunque ha regalato continuità anche se è il backup e di solito secondo i portieri giocano un pochino meno rispetto ai titolari un po' come nel calcio in ogni caso su chi può fare affidamento a Colorado sicuramente sull'attacco quindi andiamo a vedere evidentemente la rosa, vediamo come abbiamo enunciato per Tampa Bay un attacco clamoroso, abbiamo Nasen Kadri che però è infortunato questa è una grave perdita però comunque di certo i Colorado Avalanche non partono battuti perché è vero non c'è Nasen Kadri ma abbiamo Nathan McKinnon il giocatore di Halifax Nuova Scozia è uno dei giocatori più rappresentativi evidentemente della formazione che in questo momento è in finale che per il momento ha leggeri favori del pronostico seppur non giochi da molto tempo McKinnon è un giocatore vagamente ispirato così come i suoi compagni di linea perché abbiamo evidentemente Land Skok su tutti il capitano, 29 anni per lui e prima finale evidentemente per lo svedese che anche lui ha dimostrato di essere veramente importante così come è importante Artur Elekkonen che non è un titolare della prima linea gioca in seconda e in terza normalmente è un acquisto fondamentale il finlandese è arrivato dai derelitti quest'anno Montreal Canadien e abbiamo visto come il contributo evidentemente della formazione degli Havana sia stato a parte importante appunto per l'Elekkonen da non sottovalutare poi anche altri giocatori che magari non passano magari come superstar ma passano magari come appunto giocatori di complemento ma che possono fare bene abbiamo visto come nei turni precedenti una doppietta di Joseph Taylor Confer abbia deciso addirittura una serie per qualificare il Colorado alla finale di Conferes da non sottovalutare soprattutto Deron Taze che abbiamo visto anche lui difensore goleador attenzione soprattutto al numero 8 di Colorado ovvero che è il Makar che ha dei numeri d'attaccante lui però farebbe di mestiere il difensore è un difensore con una tecnica sopraffina e che riesce soprattutto a finalizzare tanto 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 in modo molto pericoloso attenzione che se Makar è ispirato la difesa di Tampa Bay dovrà veramente sudarla Colorado è una squadra completa una squadra che può evidentemente dare fastidio in molti ruoli del campo bisognerà vedere se recupererà dall'infortunio il titolare in porta dei Colorado Avalanche ovvero Darcy Comper che è stato fuori di fatto per tutta la finale di Conferes però da quando è entrato Pavel Francus è evidente come anche in questo caso c'è stata molta più sicurezza anche rispetto magari a Comper vediamo come schiereranno le formazioni già a partire da stanotte per voi che vedete il video sarà una finale veramente clamorosa i portieri sono una incertezza per i Colorado Avalanche non lo sono di certo per i Tampa Bay Lightning perché c'è una sicurezza al comando ovvero Andrei Vasilevski che è arrivato nel 2014 a Tampa Bay ed ha sempre difeso la porta dei Bolts Vasilevski è veramente una sicurezza soprattutto negli Elimination Game è stato un giocatore decisivo ha subito di fatto soltanto un gol prima evidentemente nella finale decisiva con i Rangers un giocatore che ha una persona di parate clamorosa una sicurezza veramente sarà fondamentale che l'attacco di Colorado sia veramente sul pezzo perché battere Vasilevski sarà veramente veramente complicato Vasilevski giocherà tutte le partite evidentemente anche in mezzo infortunato mi verrebbe da dire perché non c'è un backup all'altezza magari come abbiamo visto per quanto riguarda i Colorado Avalanche anche però evidentemente i Lightning sono comunque da tenere d'occhio soprattutto dal punto di vista offensive abbiamo visto come il capitano Stephen Stampos sia un giocatore di assoluto rilievo abbiamo visto come Andrej Palat il 31enne della Repubblica Ceca abbia già deciso più volte la serie con i Rangers in particolare negli ultimi minuti quindi se la partita è tirata punto a punto attenzione che Palat può cacciarci sempre il gol decisivo attenzione soprattutto all'86 Nikita Kucherov uno degli assessment più prolifici della Lega un giocatore veramente completo vede dei passaggi che vede soltanto lui e attenzione perché può sbloccare delle situazioni importanti dove magari la difesa degli Avalanche può essere schierata in particolare però attenzione perché gara 1 la vedo molto molto favorevole evidentemente ai Tampa Bay Lightning per un semplice motivo i Lightning sono freschi hanno giocato di fatto fino a gara 6 contro i New York Rangers a differenza dei Colorado Avalanche che hanno liquidato la pratica in quattro partite contro gli Edmonton Warriors hanno avuto 12 giorni di riposo consecutivi quindi ci sarà un po' di riabitudine alla partita da fare per il Colorado Avalanche che è vero si sono allenati ma evidentemente possono aver perso qualcosina da quel punto di vista quindi gara 1 seppur si giocherà a Colorado o meglio a Denver sarà secondo me a favore dei Lightning i Lightning però possono comunque stare attenti perché il fattore campo è a favore degli altri si giocheranno quattro partite alla Boll Arena di Denver si giocheranno tre alla Amalia Arena di Tampa va detto però che appunto se Colorado perde una partita in casa difficilmente perderà la seconda Colorado però non ha l'abitudine a giocare questo tipo di partite perché ripeto non vanno in finale di Stanley Cup da veramente tanto tempo Tampa Bay invece è abituata ha vinto due titoli e può arrivare per il terzo consecutivo un po' come le grandi squadre del passato per esempio i Canadien degli anni 80 i New York Islanders degli anni 80 insomma si sta facendo un po' la storia una dinastia simile un po' c'è stata in realtà ovvero quella dei Chicago Blackhawks che adesso sono in fase di ricostruzione ma non vinsero titoli consecutivi vinsero titoli alternati tre in sei anni in particolare i Tampa Bay Lightning però hanno tutte le carte in regola per arrivare secondo me a vincere il titolo attenzione però a come girerà l'attacco di Colorado secondo me sarà una partita che finirà minimo in sei partite probabilmente in sette se dovessero rispettare il pantone campo un po' come abbiamo visto anche in altri turni dei playoff sarà comunque una finale di Stanley Cup assolutamente da seguire Sky ha avuto l'onore e la fortuna di prendere i diritti per i prossimi tre anni dell'occhio su ghiaccio e di conseguenza avrò modo di seguirli anche con commenti in italiano dei giornalisti di Sky che sono veramente veramente bravi con l'NHL Review possiamo chiamarla così noi ci ritroveremo ma a Stanley Cup conclusa per parlare di quello che è successo nella serie finale prima di poi di dedicarci totalmente al meraviglioso gioco del baseball che andrà nei momenti caldissimi perché tra poco si arriva all'All-Star Game e poi da lì i giochi per le World Series e per i playoff si faranno veramente seri con il finale di regular season e tutto quello che verrà del meraviglioso mondo dell'MLB ma per il mio ci concentravo sulla meravigliosa finalista le Cup per quello che vado Avanash e Tampa Bay Lightning il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti